Abbiamo sentito prima i due viceministri della giustizia sono sotto scorta, da oggi sale il livello per l'allerta sicurezza dopo le nuove minacce di attacchi dall'area anarchica. Messaggi di minacce, occupazioni, sit-in e manifestazioni degli anarchici sono ormai all'ordine del giorno a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera a Milano dove continua lo sciopero della fame contro il 41 bis il carcere duro. Oggi è prevista una manifestazione a Milano e gran finale domani con un corteo che arriverà al penitenziario dove è detenuto. A Roma invece la chiamata degli anarchici arriva sui social sempre per sabato, si temono disordini e scontri con le forze dell'ordine come una settimana fa nella capitale. Da ieri è stata occupata l'aula 1 della facoltà di lettere dell'università La Sapienza di Roma da un gruppo di studenti che solidarizza con Cospito. L'allerta è massima in tutta Italia, specie dopo le lettere di minacce inviate alla Premier Giorgia Meloni e al Ministro della Difesa Guido Crosetto e non si sottovaluta la telefonata anonima arrivata martedì al resto del Cardino che ha annunciato un grave attentato a Bologna. La preoccupazione del Viminale è rivolta alla possibile saldatura di più anime dell'area anarcho-insurrezionalista che hanno trovato nella battaglia di Cospito contro il 41 bis l'ombrello ideologico comune, quindi secondo fonti di polizia oltre ai 3-400 anarchici più pericolosi e ben controllati potrebbero aggiungersi le tante frange eversive antagoniste. Gli analisti temono insomma un pericoloso salto di qualità degli attacchi non più rivolti al danneggiamento di auto e infrastrutture, ma anche contro le persone.